Pietra di lavagna, l'effetto lavagna. Pietra di lavagna può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto in legno, metallo e plastica, più che opportunamente preparato, di colore bianco, liscio ed uniforme. Pietra di lavagna, scheda tecnica numero G15, si applica con l'areografo, in una mano incrociata, mantenendo una distanza da supporto di circa 25-30 cm. Pietra di lavagna, l'effetto lavagna.